Sono 800 anni dell'università, ma sono 800 anni anche dell'università di Napoli, perché insomma questa è nata come prima università della città, la città è molto vicina alla sua università. Faremo le cose nell'università, faremo gli eventi con il comune, con la regione, a livello nazionale. Abbiamo già avviato tante cose, un po' di cose le avete già viste. Lunedì abbiamo il punto focale, potremmo dire, perché avremo, dopo tanti anni che non si fa, avremo l'inaugurazione dell'anno accademico, è un'inaugurazione particolare, bellissima, perché è un'inaugurazione di 800 anni di attività della prima università statale, quindi istituita dallo Stato, e abbiamo l'onore di avere il Presidente Mattarella che sarà con noi, non solo sarà con noi, ma eccezionalmente visiterà due sedi dell'Ateneo, quindi avremo l'inaugurazione dell'anno accademico qui alla centrale, nella mania storica e poi il Presidente verrà a visitare la nostra sede di Scampia, la ultima nata, con quel significato straordinario che ormai tutti quanti conosciamo. E questo già ci riempie di gioia. Un altro elemento di gioia, di felicità, di grande attenzione verso il nostro Ateneo è il fatto che l'ino nazionale sarà cantato da Andrea Bocelli. Andrea Bocelli si tratterrà, il giorno dopo avremo invece una giornata dedicata a lui, in cui ci sarà appunto la laurea in Oris Causa, Andrea Bocelli, e alla fine della laurea in Oris Causa, anche lì eccezionalmente, il Maestro ci regalerà un po' della sua arte, diciamo, allegrà a noi e a tutta Napoli, perché poi tutto sarà ovviamente online. Grazie per la visione!